Oggi c'è stato, vi faccio vedere le immagini, con l'aiuto della regia sempre naturalmente, c'è stato un flash mob, un flash mob dove davanti alla porta di Brandeburgo, organizzato da dei giovani che non è la prima volta per la verità che fanno questo, e dal vicepresidente del Parlamento Europeo, Roberto Angelilli, questa delegazione di giovani del nuovo centrodestra hanno portato questo striscione, la scritta Stop Austerity, con queste mani tricolore che avete visto, erano tanti ragazzi, per chiedere alla Commissione Europea di superare le politiche di esclusivo rigore, volute, guarda un po', proprio da Angela Merkel. Andiamo a sentire che cosa ha detto Roberto Angelilli. Un attimo solo che sta arrivando il contributo. Sono chiaro, la Commissione Europea e la cancelliera Merkel, basta politiche di sola austerity. Siamo pronti a rispettare le regole, ma abbiamo bisogno di un patto di stabilità più flessibile, perché abbiamo bisogno di risorse per grandi investimenti, per la ricerca, per l'occupazione, per le imprese e per il territorio.